Stai lavorando? Fino a un secondo fa sì. Adesso mi sa che mi prendo una pausa. Guarda, basta un tocco e pronti a giocare. Fa vedere. La cosa pazzesca è la grafica. Fluida, eh? Sì, sai cosa? Il monitor è un po' piccicoso. Ma cosa hai mangiato? Crostata all'albicoche, perché? Vai a lavarti le mani, subito. Hai ragione, sai, da quando Giulia mi ha lasciato, ho carenza d'affetto. Grazie a tutti.